Dottor Gardini. Ben arrivato. Potremo iniziare dal Moro di Venezia. È la metafora della mia vita. L'uomo ha i suoi sogni. Forza ragazzi, è il nostro momento, andiamo! Le sfide. Dobbiamo sperimentare, innovare con coraggio. Gli affetti. La cosa più importante è sempre stata la famiglia. E sono totalmente dalla tua parte, Raul. E le sconfitte. Era cambiato il vento, però lei non se ne era accorto che per un marinaio esperto come lei è un errore imperdonabile. Sono sempre stato troppo ingombrante per loro.